Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo episodio della serie di Resident Evil 2 Nell'episodio precedente avevamo sbloccato la porta grazie a queste spine con gli scacchi letteralmente Adesso proseguiamo la nostra operazione di ritrovare e salvare Eda Qui sto vedendo che già c'è una pianta blu, sì, una pianta blu E' un'altra pianta verde quindi presumo che qui ci sia da combattere da quello che posso capire Guarda se mi dessi anche una erba rossa mi farebbe molto comodo Da questa parte, cosa c'è? Ok, qui è per lo smaltimento dei rifiuti Qui invece è la stanza del generatore Vediamo se riesco ad aprire questa No? Ok, quindi devo andare prima qua dentro Pianta rossa Come volevo dimostrare, qui vuol dire che c'è davvero qualcosa A questo punto io questa rossa la combino con questa Così facciamo il trito delle erbe più potenti E basta Per ora modifichiamo solo questi due Intanto voglio vedere se ci sono oggetti Mi sembra proprio di no, eh Credo proprio di no Qui non si può aprire Quindi l'unica è da questa parte Qui Ok, c'è Un enigma simile a quello dell'ultima volta Dobbiamo far Rimanere tutte le Le cose sul rosso, ok Abbiamo dato luce Abbiamo riattivato la corrente Oddio Ma stia Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Che devo fare? Non so niente Che devo fare? Ma sei pazzo? Tu sei pazzo? Ma tu non ci sei normale però Stai entrando Stai entrando Stai entrando Non posso uscire Vuoto Eh ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Ma il Ma sei ancora Attenzione Sei ancora su Attenzione Non posso Un corpo Glielo voglio dare Ma dai Oh 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 Ok Curati E questo Lo combiniamo Ok Un corpo Glielo voglio dare Sto bastardo Ok Adesso Corriamo Perché Lo spazio per un'altra boss fight C'è Quindi L'ho lasciato molto indietro E guarda Lo spazio per una boss fight C'è Quindi a questo punto Direi che C'è proprio la boss fight Cosa ho preso Allora Una grande astrordente E Coltello Ok Mi stai spostando questo No Non mi colpire Sì ma Dove Dove devo andare Proiettili per la magnum Ottimo E dai Dai ma prendi Ah quindi Lo dovrei far fermare Qui Adesso Dove Eh sì ma Di nuovo Non ho colpi Quindi Quindi io Quello che devo fare È Questo Far girare sto coso Lo potrei fare Si può fare anche senza colpirla Basta avere un po' di fortuna E Bloccarlo Proprio quando E dai però E prenderlo proprio quando È Qui vicino Ok però Devo togliermi anche io Però a sto punto Vieni qua Ok questa è andata male Io però ho la granata Infatti Il gioco è questo E dai però anche tu Leon corri Dovresti venire un po' Dovresti venire un po' Verso da questa parte No però C'era anch'io però Ok Riproviamo ragazzi Quindi abbiamo scoperto Che intanto Io mi devo togliere dal mezzo Devo lasciargli solo lui Non devo sprecare munizioni Devo stare attento Quando usi la gru Non cadere nella tua stessa trappola Ah ma Ma già siamo Piano Mi devi far fare le cose Eh ma Ci avevo le munizioni Erano qua le munizioni Ok Allora Meno munizioni uso Forse meglio Eno Devo vedere che stati siamo Siamo sul normale Abbiamo due pure Va bene Ok Ok Quindi il primo Per la prima volta È caduto Quello che dobbiamo fare adesso È farlo Ricadere almeno Una seconda volta E credo che Siamo anche Più di una seconda volta A questo punto Nel frattempo Io ricarico Sai Non si sa mai Eh Dovrebbe arrivare ora Dovresti arrivare adesso Sbrigati Sbrigati Ce la fai? Ce la fai Ce la fai Dai dai Adesso Ti ha bloccato Ha bloccato Am Border Allora L'abbiamo battuto Per questa volta Quindi Procediamo da questa parte Vediamo cosa andiamo a trovare Sblocchiamo una volta Letteralmente il suo peso l'ha fatto collassare Sopra lui stesso Ok Abbiamo fatto solo il giro Beh lì non avevo più niente da prendere Quindi andiamo da questa parte Ci dovrebbe voler aprire appunto Come on Ada Ada, where are you? Over here Ada I was getting worried there for a second I can't get it out I don't know if I should die Just do it, I can't walk like this Ok It's gonna hurt Hold on I can do it myself Just relax, ok? So, what do we do now? Get yourself out of here While you still can I'm not just gonna leave you Not like this You don't understand The situation's worse than I thought You're not getting rid of me You're not getting rid of me that easy You're protecting me Now it's my turn I didn't realize we were keeping score Grab my shoulder Don't push it, Rookie Ok Just trying to help Watch your step You wanna help? We have to get to the nest Nest? Umbrella's lab Right beneath us Net let it slip That's where the virus samples are You up for this? Think I could fit in my schedule? Come on We got work to do Yes, ma'am Ok Quindi abbiamo salvato Ada Però a sto punto io Un viaggetto qui Me lo farei Per vedere se ci sono Munizioni No Ok Ragazzi Io vi posso dire Che per questo episodio Può essere anche tutto Vi ringrazio per la visione Mi raccomando Se vorrete Di lasciare un like E di commentare il video Ci vediamo Al prossimo appuntamento